La Guardia di Finanza di Oristano ha disposto quattro arresti, vasta inchiesta in materia di reati contro la pubblica amministrazione. I delitti contestati dalla Procura della Repubblica di Oristano sono corruzione, frode nelle pubbliche forniture, omissione di atti d'ufficio, abuso d'ufficio e rivelazione di segreti d'ufficio. Numerose sono le perquisizioni in corso sin dall'alba nelle province di Oristano, Cagliari, Nuoro e Sassari.